Quarto round stagionale del Predators Challenge, qui sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina e siamo in compagnia di Alberto Nasca, la sua seconda esperienza in questo campionato. Loro Alberto, dopo la prima splendida gara che ti ha visto come protagonista al volante della PC015 a Cremona, questa volta in azione al volante della PC010, raccontaci un po' le tue prime sensazioni, le differenze che hai riscontrato anche nella guida. Sì, ho fatto adesso il primo turno di libere, non avevo mai provato questa macchina, avevo provato la PC08 e la PC15, ma la PC010 mai. A livello di guida è a metà strada tra la 8 e la 15, più verso la 8. È molto insidiosa, parte facilmente in sovrasterzo, quindi devi essere molto pulito, naturalmente ha meno carico aerodinamico rispetto alla 15, quindi puoi entrare meno forte in curva e percorrere le curve meno forte, insomma, è in generale meno stabile, quindi devi essere ancora più pulito che con la 15, ti permette ancora meno errori. Il divertimento è comunque sempre al massimo. E a proposito di divertimento, basta riguardare il video della gara che ti ha visto come protagonista a Cremona per rendersi conto di quanto questa formula sia eccitante, spettacolare, ma abbia anche grande correttezza tra i piloti. Sì, è quello che mi ha stupito la scorsa gara, in senso positivo, ovvero che in una bagarre in cui il cappottamento era alle porte, alla fine abbiamo fatto una gara bellissima con tantissimi sorpassi e siamo usciti tutti indenni. Quindi questo vuol dire che il livello dei piloti, proprio a livello di comportamento in pista, di guida, di controllo della macchina, è altissimo. Cosa ti aspetti da questo weekend? Dopo le prime prove libere, sei già fiducioso e un buon feeling con vettura e circuito? Spaisatissimo i primi giri, davvero è stato un attimo traumatico abituarsi, complice anche il caldo, ci saranno 40 gradi e si muore. Sono curioso di vedere, giocando con le armi alla pari, con la stessa identica macchina e gli altri, quello che riuscirò a fare. Adesso è il primo turno, sono un secondo dal primo, quindi per essere la prima volta che vedo la macchina e la pista con questa macchina, è un buon punto di partenza. Adesso proviamo a scendere. E allora, buon divertimento, in bocca al lupo naturalmente, e ci vediamo in pista con le gare del Predatoros Challenge. Grazie a tutti, Benja.